Musica Buongiorno, sono Alessandro Ruta, direttore operativo dell'impresa Play Young J.A. È un'impresa che nasce da due classi, il terzo a grafico e il terzo c informatico della scuola ITTS a volta di Perugia. La nostra azienda nasce da vari brainstorming effettuati nella nostra scuola, è venuta fuori l'idea di creare un gioco a tavolo interattivo. Perché interattivo? Perché abbiamo unito sia la parte tradizionale del gioco, dunque il tabellone, da di pedine, con una parte interattiva, dunque digitale, un'applicazione, che appunto si è dedicata a fare la classe informatica. L'altra classe, la grafica, si è occupata della grafica del punto del tabellone. Intanto è basato sulla musica e chi non si diverte con la musica. Poi, perché giocare al nostro gioco a tavolo? Perché è interattivo intanto, dunque intrattene molto. È un gioco anche snello, dunque veloce. Dunque si può fare una partitina in 15 minuti. Ci siamo messi in primo piano noi, abbiamo raccolti, abbiamo anche stretto amicizie. E abbiamo anche fatto un prodotto che possiamo essere orgogliosi di chiamare Swing. Grazie a tutti. Grazie a tutti.